Il Comune di Silvia ha lavoro per migliorare la viabilità del Comune Costiero, progetti di modifica che riguarderebbe diverse zone della città, soprattutto a ridosso della Statale 16, una situazione su cui gli uffici comunali stanno lavorando per valutare interventi per sdenlire l'imponente flusso veicolare, dopo le segnalazioni ricevute anche dai residenti, che in particolare all'altezza dell'ex Bivio di Santo Stefano, via Sant'Antonio e in prossimità del Sottopasso Palestini e strada ex Silvanella chiedono la realizzazione di altre due rotatorie. Siamo fortemente convinti che bisogna migliorare la viabilità di questa città e la nostra intenzione è quella di migliorare viabilità con alcune arterie secondarie, dunque stiamo prodisponendo alcuni progetti per fare questa benedetta variante a Silvi. Sì, abbiamo bisogno di strade secondarie perché la nazionale non riesce a reggere il carico di traffico e dunque stiamo studiando alcune ipotesi anche con l'ANAS per migliorare la viabilità esterna. Diversi cittadini chiedono l'utilizzo delle rotonde? Allora, stiamo studiando anche qui dove sia possibile realizzare delle rotonde, naturalmente non è possibile realizzarle in tutti i punti, io però sono convinto che rotonde sicuramente aiutano a smaltire il traffico, però se non diamo un respiro con una strada secondaria, un'arteria, dunque sfruttare ad esempio la SS 553 con delle nuove bypass che danno la possibilità di superare il centro città, sia difficile migliorare la viabilità della città di Silvi. Abbiamo un accordo di massima con l'ANAS per realizzare uno svincolo importante che è quello che tutta l'asse viaria che scarica da Pianacce, San Silvestro e Santo Stefano, realizzare un collegamento con la SS 553. L'ANAS si è resa disponibile ad investire su questo progetto che stiamo portando avanti con i nostri uffici tecnici.